oee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi mamma mia quante novità che ci sono nelle ultime ore per quello che riguarda il futuro di fortnite parleremo di un grande di un grandissimo annuncio ma vedremo anche dei leaks davvero molto interessanti prima di tutto però voglio ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi aiutano nello shop con il mio codice creator xyuderone mi raccomando ragazzi non dimenticatevi anche di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica del video delle 13 e 30 ma parliamo appunto degli argomenti di oggi confermate le fortnite championship series per la seconda volta arriveranno vedremo anche però dei problemi nel matchmaking come vi anticipavo un bel po di leaks interessanti prima comunque la domandina sapete che ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto e quella di oggi è davvero molto interessante ma te con che tasti costruisci fa io sono curioso di saperlo ragazzi siete tantissimi o voglio sapere con cosa costruite io utilizzo la f per il muro il control di sinistra con il mignolo per le scale e sul mouse il bottone laterale più avanti per fare il pavimento e quello più indietro per fare la piramide dimmi invece i tuoi tasti qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande i bando alle ciance andiamo subito a vedere il primo indizio della patch 12.30 addirittura sì perché ragazzi ieri mattina alle 9.45 sono stati fatti i primi test sul gameplay quindi ovviamente su server privati di epic games relativi alla patch 12.30 questo vuol dire una cosa importantissima che la patch 12.20 che stiamo tutti aspettando è pronta non sappiamo ovviamente quando verrà rilasciata il fatto che facciano dei test sulla 12.30 non vuol dire che questa settimana rilasceranno un nuovo aggiornamento ma sono molto molto propenso a pensare che invece sarà così anche perché settimana scorsa hanno fissato qualcosa ma non hanno patchato infatti vi sto facendo vedere lì sotto che ci sono proprio i richiami al nuovo update speriamo invece che appunto la 12.20 arrivi presto e speriamo che arrivino anche gli elicotteri ma andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ed è una roba molto divertente e molto interessante siamo nella pagina twitter ufficiale di benji fish lo conoscete tutti si è qualificato per le war cup un campione e nessuno ha niente da dire benji fish pubblica un commento al post di call of duty che dice warzone free to play for everyone dropping tomorrow march 10 gratis per tutti il nuovo battle royale di call of duty oggi perché arriverà proprio oggi benji fish gli risponde attenzione adesso aspettiamo tra qualche istante un annuncio di fortnite bambam benji fish ci prende di prepotenza passano pochi minuti e viene pubblicata questa immagine che conferma le fortnite championship series prima di parlarvene però voglio farvi vedere il video ufficiale uscito con l'immagine porca miseria è l'altro l'altro schermo ma perché 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 track ok diciamo che pc players non possono partner con conoscere le fortnite con o mobile players. If you're new to the FNCS or need a refresher on how qualifying works, here's the intel. First, secure access to FNCS by reaching Champion League in Arena. Every week, top scoring teams in each server region claim their spot in the playoffs. After the weekly spots are filled, we take the remaining top duos from the series leaderboard to fill out the rest of the playoffs. So whether you claim your spot during the weekly qualifiers or grind your way to the top of the season leaderboard, there are multiple paths to becoming a champion. Finally, don't forget that with every new season, hype reset. So drop into the arena and build up that hype. For more details, see the briefing in the blog. Good luck agents, until next time, we'll see you on the Battle Bus. Insomma ragazzi, interessantissimo quello che viene detto da questo simpatico signore che è in realtà riassunto in questo post pubblicato appunto da Epic Games nella pagina delle news. Che cosa sta dicendo quel tizio là? Sono arrivate le Championship Series e saranno in duos. Quindi mi raccomando trovate un partner per provare a qualificarvi a uno degli eventi più importanti di Fortnite. Vi ricordo infatti che sarà obbligatorio che il vostro partner abbia la vostra stessa periferica. Quindi un PC, deve avere un partner che gioca da PC, una console con console, mobile con mobile. Ci saranno dei test, delle prove pubbliche quindi dal 13 al 15 marzo quindi settimana prossima per poi appunto annunciare l'evento, l'inizio ufficiale di qualifiche per le Championship Series ragazzi. Saranno tanta tanta roba. Ci ha ricordato anche che al termine invece di questa season quindi si parla comunque di fine season. Ragazzi il 29 aprile secondo me non posticipano, verranno riazzerati gli hype. Quindi ovviamente per tutti quelli che sono in arena si ricordino che si ricomincerà tutto dall'inizio. Insomma ragazzi un grande annuncio e penso che proverò a qualificarmi anche io. Ho già in mente, ho già in mente chi chiamare. Se mi stai guardando, porco di quel mondo Galmar, contatemi su Instagram. E andiamo avanti ragazzi, andiamo avanti. Invece per quanto riguarda invece un problema incredibile che c'è sul matchmaking. Questa immagine è pubblicata da un utente di Reddit sotto la sezione bug che mostra una cosa davvero assurda. Come lui venga matchato, in questo caso anche killato, da un giocatore che come vedete, il giocatore che l'ha killato ha le statistiche sulla colonna di destra. È totalmente molto molto più forte, più schillato, statistiche più alte rispetto a lui. Basti semplicemente vedere il numero di vittorie, 3 per questo giocatore, 367 per l'altro. E un esempio lampante è anche il numero di kill, 20.012 per il giocatore di destra, 308 per lui. Questo vuol dire che c'è un problema per tutti noi molto grave di matchmaking. Non è ancora corretto, è abbastanza sballato e speriamo ovviamente venga fixato abbastanza rapidamente, anche perché rovinerebbe troppo l'esperienza di gioco, essere matchati con gente troppo più forte. Voglio comunque farvi vedere adesso un altro spezzone, davvero molto interessante, c'è anche il nostro amico Turner Tfew, perché ragazzi guardate quanto cavolo sono tossiche le granate esplosive radiocomandate il C4. In poche parole, e quanto diamine sia tossico il Barrett, vi lascio alla clip, vi lascio alla clip. Ciao a tutti, ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie! Grazie! Sì, sì, sì Sì, sì Sì, sì Oh, ho for the spell, holy f**k Holy f**k Oh, I can't build, ok That's kind of fire I think I'm going to get on top of this because these teams are going to cook soon Yeah I think so A parte la faccia meravigliosa che vale tutto il video di oggi di Tfew totalmente Stravigliato dal doppio Barret che è veramente OP Anche la prima clip è oggetto di molte discussioni su Reddit Ovvero sia il troppo overpower dei C4 che se utilizzati in maniera corretta Non lasciano assolutamente scampo al giocatore che subisce il danno di potersi difendere Insomma ragazzi, tanta tanta roba anche per le notizie di oggi Io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali Io sono in live sulla piattaforma viola Ciao 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 Ciao